051 Sì, su questo Presidente, intanto annuncio il voto contrario, però mi chiedo come mai in Commissione è stato dichiarato inammissibile, se non sbaglio, e adesso è stato invece dichiarato ammissibile, forse mi dicono azioni di lobbying, però io non ci voglio credere, Presidente. Mi dicono gli uffici che in Commissione era formulato in maniera parzialmente diversa, questo emendamento non è identico a quello presentato in Commissione, è stato riformulato e ristretto esclusivamente al tema della minoranza lavina. Sì, va bene.